Padre Pio aveva, abbiamo detto già nella scorsa trasmissione, nello scorso spazio dedicato ai fatti di Padre Pio determinati doni, determinati carismi che spesso, anzi che quasi sempre, lui metteva a disposizione degli altri, li utilizzava per aiutare gli altri. E ora cercheremo di capire come avveniva questo grazie al nostro ospite testimone, al dottor Giuseppe Caccioppoli che per 18 anni ha frequentato fino al 1968 il convento di San Giovanni Rotondo e che adesso vive in America dove svolge la sua attività di medico-psichiatra e che unisce a questa sua attività professionale anche l'obby di continuare a fare ricerche storiche su colui che è il suo padre spirituale, cioè su Padre Pio. Allora come Padre Pio utilizzava i doni per aiutare gli altri? Uno dei tanti esempi ci viene da Margherita Cassano, Margherita era una figlia spirituale di Padre Pio, era un'infermiera, fu una delle primissime infermiere quando aprirono l'ospedale e c'era tramandata tanti episodi sulla vita di Padre Pio e i contatti che lei ha avuto con Padre Pio, Margherita Cassano e lei prima di andare al lavoro la mattina andava sempre a sentire la messa che era alle 5, quindi si svegliava alle 4 e quindi lei viveva in un appartamentino siccome aveva pochi soldi e non era ancora incominciato il lavoro effettivo di infermiere, non teneva soldi e allora viveva in un appartamentino con altre due ragazze e così alla mattina lei sentiva la sveglia nel corridoio alle 4, così si alzava, le altre ragazze non andavano a sentire la messa, lei si alzava e andava a sentire la messa e un giorno pensò dopo tanto tempo ma perché non deve disturbare a quelle ragazze che devono utilizzare la propria sveglia per svegliarmi male in tempo? Lo disse a Padre Pio e disse magari mi compro io la mia sveglia così non distribuirò a nessuno e così chiese il permesso a Padre Pio di comprarsi la sveglia e Padre Pio ha consentito. Quando Margherita portò la sveglia a casa disse alle ragazze di non preoccuparsi più di mettere la sveglia nel corridoio per lei per potersi svegliare alle 4 di mattina le ragazze la guardarono sballordite e dissero ma noi non abbiamo mai avuto una sveglia e allora ci sono dei punti sospensivi qua. E il mistero che ovviamente lascia il posto al racconto di cronaca. Il sovranaturale che era naturale e tu non hai risposte. Un'esperienza simile non uguale ovviamente simile di come Padre Pio interveniva con i suoi doni per per assecondare le esigenze o per sollevare gli altri dei problemi l'ha fatta anche un principe della chiesa un cardinale. Il cardinale Siria diceva non solo una volta tantissime volte e ogni occasione che poteva diceva il fatto che gli era capitato perché non si riusciva a capacitare che cosa gli era successo e quindi lo disse e questo qua in questo libro sta pure nella posizia questo fatto. E lui lo diceva continuamente perché non si riusciva a capacitare anche dopo tanti anni che lui lo racconta anche Padre Alberto D'Apolito nel suo libro. Padre Alberto sì. Lui era arcivescovo di Genova e un giorno gli arriva un telegramma, il telegramma era da Padre Pio e lui non aveva chiesto niente a Padre Pio, lui non lo conosceva proprio, ma nel telegramma si stava spiegato quello che doveva fare. Il cardinale disse solo io capì quello che ci stava scritto là e seguì alla lettera quello che ci stava scritto. Era un consiglio in pratica? Era un consiglio di come risolvere un problema e lui disegna e seguì quello che diceva il telegramma e il problema si risolse. Ma poi dopo lui incominciò a pensare ma come è possibile? Io non ho chiesto niente. Cioè tutta la riflessione o tutto era sembrato naturale per mesi e anni pure a lui e poi all'improvviso capì qui ci stava del soprenaturale perché il problema era risolto ma lui non aveva chiesto aiuto. E così, questo ci fa capire come Padre Pio seguiva e cercava di aiutare tutti, non aspettava che uno gli chiedesse, vedeva che c'era bisogno di aiuto e la sua generosità entrava in azione. E questo è avvenuto anche con Fran Modestino, il paesano figlio spirituale, alcuni lo definiscono anche erede di Padre Pio perché ha mostrato di avere anche lui qualche carisma. Che è successo con Fran Modestino? Eh sì, Fran Modestino pure lui riportava un fatto che gli era capitato perché alla gente a lui gli chiedeva cose, diciamo, degli oggettini religiosi gli chiedevano e lui andava in paese a comprarli, così quando tornava e la gente chiedeva qualcosa lui ce la davo. E un giorno scese in paese ed esiste di comprare una bottiglia di vino e così comprò questa bottiglia di vino in una bottiglia locale e se la portò al convento insieme agli oggettini e si incrociò con Padre Pio. Padre Pio benediceva gli oggetti, Padre Pio benediceva sempre tutto, tra l'altro, sempre, ogni cosa. Così lui sapeva che il Padre Pio benediceva tutto, egli disse, Padre benediceva questa bottiglia di vino. Lì aveva detto bottiglia di vino. E qua sta il fatto. Qua quasi come si avesse voluto mettere in dubbio che quella bottiglia contenesse vino. Allora, Padre Pio mi accontentò, benedice quella bottiglia, ma però aggiunse, beh, mi hai fatto fare il primo miracolo stamattina, ho fatto diventare vino il contenuto di questa bottiglia. Quindi non riteneva che prima della sua benedizione in quella bottiglia ci fosse vino. Evidentemente lui sapeva qualcosa in più di quello che sapeva Fra Modestino. Fra Modestino aprì la bottiglia a pranzo, dice, a pranzo io consumai con i miei compaesani quel vino che da tutti venne trovato eccellente e squisito. E continuo Fra Modestino. Solo dopo alcuni giorni seppi con stupore che il gestore della trattoria dove aveva comprato il vino era stato messo in galera perché faceva il vino non con l'uva ma con le cartelle. Quindi non c'era vino, non c'era stato vino in quella bottiglia prima della benedizione di Padre Pio. Quindi in questo caso Padre Pio ha manifestato due doni. Il primo di sapere che in quella bottiglia non c'era vino, il secondo quello di riuscire, diciamo, sulla scorta di quello che Gesù fece alle nozze di cane a trasformare quell'acqua e qualche sostanza chimica in vero e proprio vino. È vero, è vero, con il sorrisso, insomma, tra il facetto, come disse… Fra Modestino. Eh, Padre Pio ha fatto diventare vino il contenuto di quella… E lui era vero eppure lui non negò e non cercò, no, di minimizzare perché se lo faceva, lui minimizzava i doni che aveva ricevuto da Dio. Questa è una cosa straordinaria, il bilancio tra umiltà e verità. E secondo te perché, ecco, essendo Padre Pio di fatto anche umile e spesso per esempio quando qualcuno gli chiedeva se aveva avuto una bilocazione o se era intervenuto lui per una situazione, per una guarigione, eccetera, alle volte lui cercava di deviare, di non rispondere, eccetera. Allora, quindi, umile lo era. Perché in alcuni casi, Padre Pio, a tuo giudizio, avendolo frequentato per 18 anni, in alcuni casi lui ammetteva di aver avuto un dono sopranaturale? Io credo che lui lo ammetteva sempre, che avesse ricevuto dei doni, lui non lo negava e capiva pure che è difficile rimanere umile e dire io ho fatto questo, come in tanti altri casi, che otteneva la prorogo dalla verità o tantissime cose. Lui diceva la verità e si vede che dopo tanto tempo era riuscito a rimanere in pace a bilanciare umiltà e verità, perché erano tutte e due lì contemporaneamente l'umiltà, lui rimaneva umile e pure faceva questa cosa grandiosa, ma era uno strumento nella mano di dire io non c'entro niente, io non c'entro niente, ringrazia la Vergine, ringrazia Dio, questo diceva che c'entro io, ma questo è successo, lui diceva non lo negava mai, non negava mai la verità. A te è capitato mai di ricevere qualche aiuto di Padre Pio in maniera soprannaturale? Io posso dire tantissime volte, ma questo non fa parte, non fa parte del programma, cioè Padre Pio quando si prendeva a cuore una persona non lasciava spazi, non ti lasciava spazi, era difficile che tu cercavi di insistere nel tuo comportamento, no, lui cercava di aiutarti a cambiare, a migliorare e questo continuamente, questo succedeva con noi, ogni volta nella vita dobbiamo prendere decisioni e lui cercava sempre di far decidere nella maniera giusta e questo è capitato, i particolari forse è meglio. Però è capitato molte volte, anche dopo la sua morte? Anche dopo la sua morte, quello che è straordinario è che è come se fosse più facile il contatto con Padre Pio dopo che era morto, anziché quando era vivo, quando era vivo tu dovevi avere una trafila, doveva arrivare fino a qua e poi doveva metterlo in fila e poi doveva avere l'opportunità di dire qualcosa. Qua sembra che tutte le difficoltà siano superate, è come se lui vivesse ancora per mettersi a disposizione, cioè per utilizzare i doni che lui aveva ricevuto, tutti i meriti che lui aveva conquistato. Adesso sembra che sia più facile. E torneremo a parlare di questa capacità di Padre Pio di essere vicino agli altri e di questi suoi doni nella prossima puntata, ancora con il nostro ospite il Dottor Giuseppe Cacciopoli. Grazie.